Bene signori, Positive ABD, io sono Domenico, faccio questo video velocemente perché sto finendo di mangiare, poi voglio editare un video. Orrò oggi a 26 settembre 2023, daily update. Allora, com'è andata l'ABD? Sempre così così. Sto andando un po' più spesso in bagno, oggi penso un 4 volte, 5 volte. Abbastanza difficile, però continuo a non vedere sangue, magari rintravedo, però l'importante, finché non c'è tanto sangue va bene. Quindi la condizione si sta mantenendo. Meno 9, meno, meno 9, meno 9 giorni dalla terapia di infliximab, quindi bisogna resistere un altro po', però ce la facciamo, ce la facciamo. Sono tornato con il mio abito migliore, ovvero questo fatto direttamente dalle mani di Dio. Eccolo qua, bellissimo. Allora, di cosa parliamo oggi? Rispondo praticamente ad un commento sul video di ieri, in cui avevo parlato dello stress che ci poteva essere appunto per mantenere una malattia. Nel commento c'era scritto, ho visto che fai un po' di trading, questo potrebbe aggiungere dello stress per farti stare male. Allora, ovviamente, fare trading in generale all'inizio, e soprattutto se ci metti subito dei soldi, porta un po' di stress, però per me è uno stress positivo. E in generale poi è uno stress dovuto all'imparare una nuova skill o all'imparare una nuova cosa. Ora, considerando questo aspetto, ovvero quando si vuole fare qualcosa di nuovo, è ovvio che ci si troverà in situazioni non di proprio agio, e quindi ci sarà un po' di stress. Ora, lo stress, ragazzi, non è negativo, per come la vedo io, è positivo. Più volte ti sbatti contro lo stress e poi meno ne avrai. Ovvero, se io faccio trading una volta, due volte, tre volte, le prime volte sarà stressato perché magari vedi i soldi che vanno giù, a un certo punto capisco come funziona e non sarò più stressato. Ora, considerando che i soldi che ho messo sono soldi che potrei anche perdere tutti completamente, non succederebbe niente. Però, l'imparare nuove skill ti porta ad essere più forte, metterti in situazioni un po' di stress ti porta ad essere più forte. Ora, lo stress è dovuto al trading, non penso che sia uno stress così grande da far star male. Qui la situazione è diversa, questa volta è stato dovuto al fatto che per un mese ho provato a reinserire alcuni alimenti. Ora, secondo me è andato un po' male, magari unito alla stagione, unito anche al fatto, sì, che faccio nuove skill, nuovi trading, nuove cose, eccetera. Faccio tanto, mi alleno ogni giorno, eccetera. E' quello che gli altri chiamano stress, ma non è uno stress così elevato. Tutto unito può aver portato un attimo al peggioramento, però sto mantenendo. Il fatto che mantengo è una buona cosa. E una buona cosa significa che adesso appena farò la cura sarò diventato una persona più forte. Ho mantenuto questa situazione sotto stress mentre sto imparando a fare trading, mentre sto facendo altri progetti, mentre prima studiavo anche, ho scritto la tesi che ho finito qualche tempo fa, mentre sto andando sempre in ufficio. Tutte condizioni che se uno pensa che gli fanno male, poi è ovvio che gli fanno male, invece mentalmente devi avere fisso il fatto che lo stress ti fa bene nel lungo periodo. Perché se noi, al contrario, ci teniamo lontano da tutte le situazioni un po' stressanti, dopo un po', anche una minima situazione che va un po' fuori alla nostra routine ci porta a chissà che stress. Ok? Quello è sbagliato. Non essere mai in situazioni di stress e quindi poi la minima cosa ti distrugge e là ti fa star male. Quindi tu ti devi prepararti, devi rendere le giornate difficili, piano piano, aumentando ogni tanto un po', mettendoci, provando, editando. E in questo modo si diventa più forti e non si è vittime poi delle situazioni un po' diverse quando capita. Quindi il discorso, che spero di aver fatto bene, ma forse magari poi me lo preparo un po' meglio, ci faccio anche un video a parte, è quello che, ok, che le situazioni di stress possono portare un attimo a far stare un po' peggio la malattia, soprattutto nel caso di malattie autoimmuni. Ma stare fuori da situazioni di stress è sbagliato perché ti rendono sempre più deboli e poi anche una situazione minima per te è gigante. Quindi, cosa è meglio fare? Mettersi in queste situazioni di stress che ti portano vantaggi? Perché questo mi porta un vantaggio. Ho imparato una nuova skill che poi nel lungo periodo, probabilmente, ed è ciò che mi auguro, mi farà fare più soldi, mi darà più libertà, perché se io so fare poi trading, se so investire, posso anche distaccarmi un attimo dal lavoro se succede qualcosa. Cioè, se nell'azienda, a un certo punto, nel mio lavoro da dipendente, succede qualcosa e mi dicono, guarda devi fare così, io dico, no, questa cosa per me non va bene. Io dico, se no lo fai ti licenzi, io dico licenziatemi, se ho altri introiti, ho altre conoscenze, ho altri skill per fare soldi. Se non ho altri skill, io devo stare zitto e fare quello che dicono. Quindi mi dà più libertà, eccetera. E quindi tutto questo si riunisce nel fatto che c'è lo stress positivo e c'è lo stress negativo. Mettersi in situazioni di stress inutili, di cui adesso non mi viene in mente niente, è sbagliato. Però se ci sono, nel mio caso, tutto quello che faccio, tutte le situazioni di stress che mi vado a creare, le giornate difficili, sono tutte portate al miglioramento e quindi piano piano divento sempre più forte. Sto cercando di pensare a una situazione di uno stress che è inutile, che fa male, ma non mi viene. Oddio, sì, vendere droga per dire. Vendere droga è una situazione di grande stress, perché stai facendo una cosa illegale, e ti porta solo svantaggi. Perché rischi? Questa è una situazione di stress negativa. Non stai facendo niente, perché già hai il rischio delle persone con cui hai a che fare, perché non sai che persone sono. Il rischio di farti beccare dalle forze dell'ordine, non sai come possono reagire. Hai a che fare con persone che non lo so come sono. Questa è una situazione completamente negativa. È uno stress completamente negativa e alla fine ti porta a svantaggi. Oppure se sei in un ambiente in cui non ti trovi bene, quello ti crea dello stress, però lì stai crescendo perché impari un attimo a stare nell'ambiente, quindi anche quello è positivo. Sono poche le situazioni di stress negativo, ragazzi. Comunque, spero di essermi spiegato abbastanza bene. Farò magari un video un attimo più articolato, me lo preparo prima. E niente, il teleupdate è finito, noi ci vediamo nel prossimo. Un saluto da Domenico.